Tu hai dei ricordi di papà. L'unico modo per descriverlo è vedere le cose che ha fatto. Avalanche, killing the best of our time, Alex Lowe. Il suo corpo non fu mai ritrovato, come un astronauta disperso nello spazio. Ti ricordo quando Conrad apparve sulla soglia di casa. Cosa potevo fare per Alex? Cosa potevo fare per prendermi cura di lui? Conrad ricevetti una telefonata. Mi disse, devono essere loro. È stato come se fosse tornato in vita. Mai immagineresti di trovarti un giorno di fronte al corpo del tuo eroe? Si può perdere qualcuno e si può lo stesso amare qualcun altro. Ho la sensazione che stiamo per portare alla luce delle cose. Vedremo poi se riusciremo a reggere il colpo. Grazie a tutti.